Inviato a Budapest una scena incredibile all'aeroporto di Budapest, all'indomani della finale tra Siviglia e Roma. L'arbitro Taylor era infatti nel terminal dell'aeroporto in attesa prendere il volo insieme alla famiglia, quando si è trovato davanti un centinaio di tifosi della Roma prima hanno iniziato cantare cori. Poi gli insulti sono stati presi per regia della finale scena che ha cominciato a scaldarsi quando sono arrivati altri tifosi richiamati dai cori e dai fischi A quel punto è intervenuta la polizia con sette agenti hanno scortato Taylor e famiglia in una stanza servizio riservata ai dipendenti.